Il decennale della monarchia albanese, la solenne inaugurazione del monumento all'indipendenza sorto ad una delle estremità del grande viale Zog, è costituito da un grande arco in stile moderno, alto 12 metri, rivestito di travertino romano e sormontato da una grande attila bicipite con le ali spiegate. La principessa Ruiglie, sorella del sovrano, accompagnata da principe sali ed altri dignitari della corte, ha presenziato lo scoprimento della sottostante arabo tiva cui si accede attraverso una scalea in pietra rossa di cruia, la pulla dell'irredentismo albanese. A Durazzo i sovrani e le principesse reali, vivamente acclamati, hanno assistito ad una festa sportiva del nuoto organizzata in loro onore. Grazie. Grazie. Grazie.